è meglio avere qualche collega amico il 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 un 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 Vieni, viene e' buona, vieni, vieni! Vai col liscio, vai col liscio! L'anno scorso era la squadra peggio del campionato. Bella palla, bella palla! Vieni, vieni! Arrivese! Vieni, vieni! Pesta! Vieni, 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 vieni! Vieni, vieni, vieni! Via, via, via! Vieni, vieni, vieni! Vieni, vieni, vieni! Sì, 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 sì. grande lì bravo Pacquiao Roma non c'era mai l'avventura non c'era mai l'avventura un grandissimo personaggio non c'era mai lì sbagliato ora bravo alza bene lancio lancio sbagliato lì è sbagliato a voi a voi non c'era mai maio vieni maio vieni maio vieni maio bravo c'è Ma tu non ho capito il normale era lì, stanno ieri, non è lì stai già avando la faccia di luce puccheri vai dai qui ci arrivi, dai ci arrivi, ci arrivi, ci arrivi ci arrivi Davooo vai dai 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 Oh, she can't see me, oh, she can't see me. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.